Oh Fiorentina, di ogni squadra ti voglia reggirà, oh Fiorentina, combatte ovunque la vita e il tuo valore, nel ora di sconvolgo e di vittoria, ricorda che le tracce è tua storia. Forza Fiorentina! Forza Fiorentina! Forza Fiorentina! Forza Fiorentina! Forza Fiorentina! Forza Fiorentina! Biglietteria Viola, siamo con un tifoso che sta per acquistare il biglietto di Europa League per la Fiorentina, intanto come ha visto la squadra nella prima di campionato? Abbastanza bene, diciamo, considerato che era la prima giornata, insomma, lo mette bene, diciamo. Il palo di Gomez? Il palo di Gomez ci sta, sono i tuoi che ci possano stare nel calcio. Un po' in centrocampo, un po' ancora deve sbloccarsi, però insomma, che poi ha un po' compromesso anche la prestazione della difesa, però insomma, siamo contenti, è la prima giornata. La partenza di lì è l'argomento del giorno, sicuramente, ormai ce l'aspettavamo tutti, ma come l'ha presa un tifoso? Ma, molto bene, perché comunque sia ci siamo levati due giocatori e abbiamo preso un sacco di soldi, sono stati investiti bene e saranno investiti comunque sia bene dalla società questi soldi. Per una stagione che si prospetta tra le migliori per la Fiorentina, sicuramente non può mancare anche l'effetto maglie, lo chiediamo a chi le vende quotidianamente, come sta andando la vendita, qual è quella più richiesta? Sicuramente la vendita ha ripreso molto rispetto agli anni passati, c'è molto interesse, la maglia più richiesta è quella di Gomez. Per quanto riguarda i tifosi, hai notato un entusiasmo particolare? Hanno commentato la squadra vista fino ad ora? Il tifoso fiorentino è unico, cioè ti uccide quando non è contento e ti esalta quando la squadra risponde bene. In questo momento sono tutti molto entusiasti e si aspettano una grande stagione dalla Fiorentina. Una Fiorentina che è partita secondo gli auspici, vincendo la prima di campionato, forse ha stentato un po'? Ha stentato... ma quell'altra, in Catania oggigiorno gioano a distrugge più che a creare il gioco, il pressing è auspiziante, però la squadra c'era, non è ancora al top come dovrebbe essere, se siamo ai top ora addio. Montella ha appena parlato in conferenza stampa presentando la partita di Europa League contro il Gassoffer, si è detto fiducioso, presenterà ovviamente la squadra migliore per il momento. Secondo lei cosa è mancato e cosa potrebbe dare ancora alla Fiorentina? Non è gioia un altro po', poi un po' di più di ritmo, un po' di meno errori di palleggio, roba del genere, insomma, rimanca un po' di continuità. C'era anche Pizarro accanto a lui e ha detto io ho già dato per quest'anno. Per quanto riguarda gli errori? Speriamo, speriamo, perché ci si ricorda quello del Mila che fece il Mila, poi appena fa un errore grave, però va lì in avanti e ce lo rifà, come ce li fece il rigore. Io non l'avrei battuto nemmeno se mi avessero dato 100 milioni, te lo dico io. Dopo l'errore e subito il gol tu va a battere il rigore in tutta una maniera importantissima, c'ha del carattere, brava persona. Per quanto riguarda, lo dobbiamo dire, il fatto, il caso è chiuso, il giocatore è arrivato a Roma, un pensiero su questo? Mi dispiace perché era un bel giocatore, ma non voleva starci, è bene che sia andato via, almeno qualche soldo l'ha preso. Siamo al Bar Marisa, abbiamo fermato un tifoso per chiedere come ha visto la Fiorentina nella prima di campionato. Gli ho visti un po' ancora fuori forma, tutto Gomez, Fortunato, anche diciamo, l'abiliante quadrato, non so, ce lo prenderai bacio di una, che non può, non lo so, con 50 milioni. E il netto è stato abbastanza sicuro, mi stavo peggio, sinceramente. Tutto abbastanza bello. Senti, la notizia di oggi è l'addio di Adam Liach. Durante tutta la giornata, non so se frequenti Social Network, ha postato prima il grazie ai tifosi e subito dopo le maglie già in giallo-rosso. Cosa hai pensato? Mi sembra un po', insomma, prima vuole una baracca di soldi, quanto Iovici, ma anche lui si è giocato due anni, quanto lui, ha giocato sei mesi, ha i suoi livelli. E poi vuole il suo stipendio, un po' di riconoscenza anche alla società, tendere un braccio, mi ha chiesto anche una mano, mi ha chiesto anche Fradè, qualche giorno fa mi sembrava doveroso. Senti, qualche istante fa Montella ha detto che ha fatto sicuramente la scelta migliore, ma poi qualche puntino di sospensione per lui, secondo te? Eh, infatti, diciamo che il portafoglio l'ha tirato verso Roma, diciamo, e per lui non so se giocherà tanto a Roma, non so, di certo non va in Europa, ma a giocare la Coppa Italia, con tutto il rispetto non è l'Europa League. La Fiorentina si gioca tutto contro il Grassober, perché comunque l'appuntamento Europa League è molto importante per questa stagione, che partita ti aspetti? Ho fatto una partita, diciamo, più attiva rispetto all'andata, dove nessun tempo siamo calati, però non credo ci siano troppi problemi, facendo dei miti scongiuri, non credo ci siano troppi problemi nel passare in turno. Si dice buona la prima, un 2-1 che non ha convinto pienamente, ma che comunque è servito per trovare i primi tre punti, cosa ne pensi? L'importante era vincere, alla fine abbiamo vinto, era l'unica cosa che contava. Contava per una Fiorentina che comunque ha grandi obiettivi per questa stagione? Perto, almeno la Champions League deve essere l'obiettivo minimo. La scezione di Lijic, l'argomento del giorno? D'altronde se un giocatore non ci vuole più stare è bene che si leva da Firenze, perché tanto gli scansa fatiche qui non li vogliamo. Quindi un giocatore che non è mai riuscito a convincere pienamente i tifosi? Sappiamo tutti che ha dei grandi talenti e delle grandi qualità, però d'altronde se preferisce Roma è meglio che si ne vada in quell'altro posto. Qui a Firenze preferiamo gente che lotta per la maglia e tutto. Qual è il giocatore da cui ti aspetti veramente l'Espload quest'anno? Mario Gomez il primo, in secondo Giuseppe Russo, che già la prima giornata l'ho già visto pienamente in fuori. Prima impressioni sulla Fiorentina 2013-2014? Io sinceramente non mi è dispiaciuto, ho visto una squadra molto combattiva, ho visto un grande quadrato, pisaggio, però con l'impressione della difesa ci sia anche di stupanza. L'importante è la vincere. Io mi auguro che quest'anno se la difesa riesca a prendere gli accorgimenti, di fare un bel campionato, di poter rinnovare, detto Benetto Scudetto, gli è 30 anni e anche la Firenze. Senta, l'Iaic è andato via, voleva andare via, non è andato al Milan, è andato alla Roma? Sì, a me è dispiaciuto che andavo via perché era un giocatore che poteva fare comodo. Però ora speriamo di aver avuto Vittorepic, speriamo che sia... La cosa è che Firenze vanno via, la Fiorentina rimane e mi auguro che questa squadra, che stanno ci dia veramente le sue soddisfazioni che si aspetta tanto a Firenze. Neto, il portiere, come l'ha visto? Neto gli darei fiducia, perché la prima partita, poi gli è giovani, la mia vita, voglio dire, io darei fiducia a Neto, anche perché poi altri portieri fanno, cioè il giro sesamo costa troppo, il Sorrentino potrebbe essere, anche io non costa troppo, io se Re Neto, anche perché c'è Lupatelli, c'è Munoano. Ci sono le alternative? Le alternative ce ne sono.